Allora, buongiorno da Modemobiliare, oggi ci troviamo in via Orsini del Balzo a Lecce e siamo a presentarvi qui una splendida abitazione, un appartamento insieme al proprietario nonché progettista della stessa, l'architetto Vuzzovio. Architetto, buongiorno. Buongiorno a lei. Ci descriva un po' la storia di questo. Allora, guardi, noi siamo venuti a Lecce nel 1987 perché mia moglie lavorava in Piazza Mazzini perché questo è un palazzetto dei primi del Novecento e un Liberty. Comunque l'abbiamo acquistato e abbiamo eseguito dei lavori di ristrutturazione che sinceramente sono durati abbastanza poco. un anno, demolizione completa di tutto l'interno e abbiamo lasciato solamente l'involucro esterno. Poi abbiamo realizzato una scala che distribuisce sui due livelli. Comunque andando avanti nella descrizione dell'appartamento posso dire sicuramente che qua hanno lavorato le migliori maestranze esistenti nel Salento. Già le stesse porte sono state realizzate da Salvatore Sivalli di San Cesario. Si tratta di un immobile con alte finiture, di alto valore, dicevamo prima si sviluppa su due livelli, adesso siamo a quel Salone. Nel Salone comunque c'è un bel cammino funzionante realizzato da una ditta di corsi vicino Maglie. Poi ci sarà, lo vedrete nel video, un soggiorno passante che si mette in collegamento sia con la cucina e sia col terrazzo esterno. Altra chicca, se posso, no? Altra chicca dell'abitazione, il terrazzo. Sì, il terrazzo. Per ora, per ora, abitato esclusivamente dal mio gatto, Miu. Poi si sale nel piano superiore, nel piano superiore c'è il mio studio e poi ci stanno due camere da letto, un bagno e la seconda camera da letto tiene pure un balcone che affaccia sul terrazzo sottostante. Quindi non resta che venire a vederla, no? Di persona per rendersi conto della bellezza dell'appartamento. Ricordiamo che c'è anche un bagno che serve la zona al giorno. È un ripostiglio sotto scala. Quindi vi ringraziamo, ringrazio l'architetto, Guzzovio. Ringrazio voi. Per la disponibilità e chiamateci, noi siamo a Mondo Immobiliare.